maaa a terra non puoi arrivare sotto città vabbè su parte le due caccia di là anche come nico my god mi ha amazzato trovarlo è quello che fa i video eh? nico my god è quello che fa i video più di troia ma che buco di cuore si si e guarda magari ci finisco